95 editori per un totale di circa 1.500 titoli e un'attesa di 3.000 visitatori. La 23esima edizione di Pagine del Garda, la rassegna dell'editoria gardesana organizzata dall'Associazione Culturale Il Sommolago e da Alto Garda Cultura, il Servizio di Attività Culturali Intercomunali di Arco e di Riva del Garda, conferma i numeri, il gradimento e le attese delle ultime edizioni, con anzi segni importanti di crescita. La formula rimane la stessa, una settimana di mostra del libro nel Salone delle Feste del Casinò Municipale di Arco dal 14 al 22 novembre, con un fitto calendario di presentazioni librarie e di eventi collaterali. E dal 7 al 13 novembre una settimana di anteprima, con presentazioni librarie che si svolgono ad Arco, a Riva del Garda e a Ledro. Oltre alle proposte legate al territorio, alcune di nicchia, anche ospiti di fama, come Carmine Abate, un gradito ritorno, e Isabella Bosti-Fedrigotti, che interviene grazie alla collaborazione della Biblioteca Civica di Riva del Garda. Romano Torrini, il presidente dell'Associazione, ci ha illustrato la manifestazione. La 23esima rassegna dell'editoria gardesana Pagi del Garda comincia il 7 di novembre e per terminare il 22 di novembre. Abbiamo una settimana di anteprima, con diverse presentazioni di volumi, mentre dal 14 in poi saremo nel Salone delle Feste del Casinò Municipale, con l'esposizione di circa 1.500 titoli di libri e l'adesione di 95 case editrici. Nell'ambito delle varie presentazioni troviamo degli autori molto noti, come Carmine Abate e come Isabella Bosti-Fedrigotti, ma anche gli autori locali che noi riteniamo giusto valorizzare. L'importante per noi è che l'adesione a questa manifestazione sia frutto di una rete di collaborazioni, ossia che diverse realtà culturali del nostro territorio trovino il modo di accordarsi per partecipare a un progetto unico. Altro valore importante è dare visibilità a piccole pubblicazioni, a case editrici, ad associazioni che altrimenti non lo avrebbero, non sarebbero in cartoleria, non sarebbero in libreria. Noi chiaramente ci avvaliamo anche della collaborazione, ad esempio, di Lega Vita Serena, che è un'associazione di Arco che ci assicura la sorveglianza in sala e noi ricambiamo con due appuntamenti, uno particolarmente simpatico, l'opera di Mario Matteotti, nata all'ombra del castello, che presenteremo in dialetto e poi l'altra invece è la presentazione di un quaderno catalogo dedicato alla sanità durante la prima guerra mondiale. Di guerra in questi mesi, in questi anni, si sta parlando a livello di trincee, di forti, di cannoni e di altro. Noi pensiamo che sia giusto anche dedicarsi alla cura di chi era malato e di chi soffriva durante quel periodo.